benvenuti nei dieci paesi più economici in cui vivere è difficile determinare i primi dieci paesi più economici in cui vivere poiché il costo della vita può variare in modo significativo in base a una varietà di fattori come il suo stile di vita personale la posizione all'interno del paese il costo di beni e servizi tuttavia alcuni paesi lo sono generalmente considerati avere un costo della vita inferiore rispetto agli altri ecco alcuni paesi che potrebbero valere la pena considerare stai cercando un posto dove vivere con un costo della vita inferiore numero dieci ucraina l'ucraina ha un costo della vita inferiore rispetto a molti altri paesi in europa con alloggi e cibo a prezzi accessibili numero 9 romania la romania ha un costo della vita inferiore rispetto agli altri paesi europei con prezzi molto accessibili per cibo e casa numero 8 bulgaria la bulgaria ha un costo della vita inferiore rispetto alla maggior parte dei paesi europei del mondo con prezzi molto convenienti numero 7 messico messico ha un costo della vita inferiore rispetto agli altri paesi in sud america del mondo con prezzi molto convenienti per cibo e casa numero 6 thailandia la thailandia famosa per il costo della vita più basso rispetto agli altri paesi in asiatici asia con casa e cibo economici numero 5 malaysia la malaysia famosa per il suo basso costo della vita e il suo buone aree rurale con uno dei prezzi più bassi al mondo numero 4 filippine filippine hanno un costo della vita inferiore rispetto alla maggior parte dei paesi del mondo dell'asia meridionale con uno dei prezzi più convenienti al mondo per l'alloggio e la vita numero 3 indonesia indonesia famosa per il basso costo della vita in particolare nelle zone rurali numero 2 india l'india è nota per il suo basso costo della vita con prezzi accessibili e cibo economico ma buono numero 1 vietnam non tutte le persone sanno che il vietnam è il paese più economico del mondo perché ancora non c'è molto turismo quindi il prezzo più economico del mondo rispetto a molti altri paesi con i prezzi più convenienti per l'alloggio il cibo e altre necessità se vi piace questo tipo di contenuti continuate a iscrivervi e commentate ciao